Va bene. Quasi tutti i video che ho post su YouTube dice che è contenuto dannoso. Così, YouTube non vedi il mio video per un sacco di gente. Così sarà probabilmente smettere di fare video sui problemi degli uomini. Rispetto ad altri canali video, ho pensato che i miei video sono stati domati. Tuttavia, ci sono un sacco di donne che non può gestire la verità. Così i miei video deve avere ricordato alcune donne di alcune delle cose che hanno fatto nel loro passato e li faceva sentire stupido. Potrebbero non essere in grado di avere il mio canale si annullano, ma si stanno facendo del loro meglio per assicurarsi che il mio video non verrà visto da un sacco di gente. Io sono alla guida di Chicago per tornare a casa. Penso che questo è meglio di guardare alcune 60 anno vecchio uomo che parla. Molti di noi hanno guardato videos dove la gente parla ed su come le donne d'oltremare display energia femminile, e come le donne in occidente display energia maschile. Ho detto che le donne in occidente non vengono visualizzati energia maschile, perché questo non è come gli uomini parlare o agire altri uomini. Se gli uomini hanno agito o parlato in questo modo con gli altri uomini, allora dovremmo essere sempre in scontri fisici per tutto il tempo. Questo un centinaio di precente vero. E voglio condividere un po' di storia personale di mente. Così quando mi è stato datazione bene nel mio femminile viaggio, ho notato chiaro come mi è stato sempre di più. Mi è stato sempre volato fuori per i viaggi. Questo non mi era mai successo. Ho ricevuto regali in denaro per investire nel mercato azionario. Non mi era mai successo. Anche quando ero fuori da me stesso, gli uomini avrebbero fretta di aprire le porte per me. Non mi era mai successo. È bello essere curati, anche da un estraneo. Gli uomini avrebbero pagato per la mia cena. Se ero a mangiare da solo al bar. Sai, è stato davvero bello essere presi cura di. Ho visto tutta la potenza dell'essere femminile. E questo è il motivo per cui ho predicare il Vangelo. È davvero cambiato la vita. Io sono in Messico ora, e ora io sono un credente sulle donne. Le donne americane e donne messicane non sono la stessa cosa. Sono completamente diversi. Più ragazza che vedete in Los Angeles sono come. Io sono una regina boss babe e non sono nemmeno così bello. Qui, e non sto scherzando. Le ragazze qui sono come gli otto, i nove e i dieci. Le donne qui portare se stessi. Essi sono a cena dal cuore caldo. Non sono bugi. Non sono arrogante. Io non credo completamente quando la gente ha detto che sono così diversi. Sono così diversi. Essi sono il modo più facile per essere intorno. Provare per voi stessi. Come la donna ha detto nel videoclip, quando si visualizza l'energia femminile, si ottiene un sacco di aiuto da parte di uomini. Gli uomini vogliono è da fare cosa sa per lei, e senza di lei chiedendo o di richiesta di aiuto. Questo potrebbe essere al 100% vero. E io off'è vero, allora l'energia femminile non significa che la cottura e la pulizia. Tuttavia, femminile, donne, fare cucinare e pulire per i loro uomini e i loro familiari. Tuttavia, alcuni di noi gli uomini che hanno avuto alcune donne che hanno cucinato per noi, ma non erano la visualizzazione di autentica energia femminile. Inoltre, come in questo seguente videoclip, alcune donne tentativo di faking avere energia femminile. Questo è me che fingono di sapere come cucinare, in modo che lui pensa che io sono la moglie di materiale e sarà, infine, moglie di me. Pertanto, la maggior parte degli uomini non riconoscono l'energia femminile se erano in piedi di fronte ad essa. Così, che cosa è l'energia femminile, e come possiamo fare per gli uomini? La maggior parte degli uomini in tutto il mondo, in ogni razza e di ogni cultura, non si vuole essere in un rapporto serio con le donne che hanno figli, o le donne che sono state con un sacco di uomini. Perché è parte di ogni razza e di ogni cultura, medias che questo è biologica. Quindi, questo è come gli uomini sono fatti. Questo è come gli uomini sono costruiti. Molti gruppi fondamentalisti islamici, ha detto che quando muoiono, saranno premiati con 40 vergini. Essi non li trovi in Stati Uniti. Se ti dico le donne come gli uomini sono biologicamente li fa arrabbiare. Si li fa arrabbiare perché uccide qualsiasi argomento hanno. In più, si rende conto che non c'è niente che possa fare per me e che gli uomini accettare i loro errori del passato. Uno dei motivi per cui non sono sposato, è che mi rifiuto di non essere quello che sono. Mi rifiuto di non essere un uomo. Tuttavia, se una donna è alla visualizzazione o mostrando autentico energia femminile, può energia femminile eseguire l'override di un uomo biologico o di un desiderio quando si tratta di essere in una relazione seria. Forse. Io non sono sicuro. Nel videoclip, l'uomo ha detto che è andato in Messico e ha scoperto che le donne in Messico sono meravigliosi. Egli ha detto che le donne in Messico sono diversi da quelli degli Stati Uniti. Dopo aver visto il suo video, mi sono reso conto che tutte le donne che hanno avuto figli. Questi women, che ho pensato sono stati meraviglioso, perfetto e considerato di avere una relazione con, erano tutte donne messicane. Al momento, non ho voglia di essere in una relazione con una donna con figli, ma queste donne mi ha fatto pensare due volte su di esso. Una ragazza messicana sapevo che aveva cinque figli, e dopo. Un'opo ho detto che non può gestire cinque figli, ho ancora tentato di pensare a Modos, dove ho potuto affrontare con cinque bambini. Un'altra ragazza messicana che lavora presso un ristorante fast food è il modo in cui lei mi guardò. Se non era di trasferirsi in California in due settimane. Io, probabilmente, avrebbe chiesto di uscire in una data e sarebbe stato sposato nella prima settimana. Inoltre, il suo inglese non era eccezionale, così lei non era per gli Stati Uniti. Ho incontrato altre donne, black, bianchi e asiatici, che io pensiero è stato il matrimonio di materiale, ma questi due messicani donne fossero solo quelli con i quali il matrimonio è entrato nel mio cervello. Così alcune donne messicane potrebbe visualizzare un sacco di energia femminile. Per noi uomini, la vera energia femminile potrebbe essere difficile resistere. Soprattutto se non siete abituati ad esso. Tegli Madonna ha detto nel suo videoclip, implicita che la maggior parte delle donne negli Stati Uniti e in Occidente non vengono visualizzati vera energia femminile. Gli uomini in altri paesi sono abituati ad esso, che è il motivo per cui non li colpisce. Questo è il motivo per cui si può barare sulle loro mogli. Il motivo per cui io non trasferirsi in Messico è perché non penso di essere in grado di permettersi di vivere in Messico. Guardando le altre persone del video, il Messico è più costoso Thailandia, Vietnam e Filippine. Devo fare ulteriori ricerche. Dopo tutto questo, ecco come descrivere la vera energia femminile. Quando una donna mostra la vera energia femminile, e se l'uomo non è utilizzato per la vera energia femminile, quindi l'uomo potrebbe fare il seguente. Si rende un uomo pensare di sposare la donna. Si rende un uomo vuole essere intorno a lei così tanto che lui non ha il tempo o la capacità di vedere altre donne. Rende l'uomo non desidera essere con altre donne. Tuttavia, non fare l'uomo a smettere di guardare le altre donne. L'uomo non può mai smettere di guardare le altre donne. Naturalmente, siamo falsi o nascondere il fatto che siamo di fronte a altre donne. Ma è impossibile per gli uomini di smettere di guardare le altre donne. Questo è il motivo per cui ci sono strip club e intrattenimento per adulti in tutto il mondo. Uno dei miei amici di sesso maschile, ha detto sua moglie capito che gli uomini stanno andando a guardare altre donne. Lei vorrebbe sottolineare le belle donne per lui. Plus, s, ha detto, perché mi ha sconvolto. So di caldo. Un altro motivo per cui non sono sposato, è perché è difficile per me da gestire di una donna in sicurezza e la sua paranoia. Un uomo dovrebbe prendere cura della famiglia finanziariamente. Egli ha tenuto a prendersi cura di tutto. La moglie dovrebbe essere in grado di lavorare e risparmiare denaro, mentre lei passa il suo. Essi non stanno andando 50% sulle bollette. Ricordate. Così queste donne vogliono che Tulli inseguano per pagare le loro bollette. Sayonara, sister. Bip. Quando un uomo chiede a una donna di sposarlo, lui è fondamentalmente dicendo, mi permetta di prendere cura di voi e pagare le bollette. Grazie per aver guardato. Fai clic sul pulsante mi piace, iscriviti, lascia un commento e condividi questo video.